il frosinone in queste prime gare ha mostrato grande coraggio e ritmo ma in alcuni momenti si è sbilanciata rischiando tanto da cosa dipende questo aspetto e come si può correggere concordo perché abbiamo fatto le buone partite è piaciuto tanto l'atteggiamento che abbiamo avuto la modalità con cui abbiamo affrontato le gare ovviamente se ripenso all'ultima partita il pareggio forse ci può andare anche stretto però c'è stato un momento in cui abbiamo sbandato quei 10-15 minuti abbiamo un po' abbandonato la gara abbiamo rischiato di prendere in un'occasione il terzo gol se l'avessimo preso sarebbe stato molto duro riprenderla e quelli sono cose da migliorare sicuramente perché fare una partita come l'abbiamo fatta e poi lasciarla andare in quei pochi minuti non è la cosa giusta da fare ma il tempo come dico sempre di lavoro sicuramente ci faranno crescere anche in questo Pantano2Sport come procede l'inserimento dei giovani nuovi acquisti a parte Zerbino che è già esordito c'è qualcun altro pronto per un eventuale impiego dal primo minuto? Abbiamo fatto una preparazione con diverse partite amichevoli abbiamo dato minutaggio a tutti ovviamente adesso siamo entrati nel vivo del gioco e non è tempo tra virgolette di fare esperimenti insomma so che ho a disposizione un gruppo di valore so che c'è qualcuno più pronto di qualcun altro perché sono arrivati tanti ragazzi giovani con qualità che però comunque alcuni di loro sono anche stranieri quindi c'è bisogno di adattamento di tempo io ci parlo spesso non devono avere fretta di voler essere protagonisti ma insomma tutti insieme sono convinto che dovremmo fare un percorso importante per fare dei percorsi importanti c'è bisogno di tutti i giocatori della rosa De Luca l'inchiesta in queste prime uscite il suo frosinone ha messo in mostra idee e mentalità diverse rispetto al passato proponendo un calcio più verticale e aggressivo si ritiene soddisfatto del percorso intrapreso? Ma l'ho detto nei post gara sono stato contento delle prestazioni che abbiamo fatto poi il bello di questo sport è che quando finisce una partita insomma non conta più ti può servire per prendere degli spunti positivi negativi cercare di cavalcare con i positivi e migliorare con i negativi ma dalla partita dopo si riparte dal minuto zero si riparte da zero a zero contro avversari che vogliono prenderti la posta in palio noi questo lo dobbiamo sapere perché come ci siamo detti tantissime volte il campionato è difficile ce l'hanno dimostrato le squadre che hanno fatto degli esploi in Coppa Italia e poi purtroppo sono inciampate in campionato e noi non dobbiamo commettere questo errore o meglio dobbiamo essere bravi ad affrontare tutte le partite al massimo cercando di non sbagliare il modo di affrontarle e poi alla fine essere in grado di sapere accettare i risultati perché ovviamente non sempre potremo avere dei risultati positivi però non sbagliando il modo sicuramente ci sarà la possibilità di migliorarsi Radio Tei nella prima contro il Palma in campo si è visto un flusione molto aggressivo ed un'intensità che non vedevamo da tempo al di là dei moduli e degli interpreti di gioco sarà proprio l'atteggiamento di chi scendere in campo a fare la differenza in questa stagione? Beh, sì, ci credo tantissimo in questo non credo nei moduli, l'ho già detto tante volte credo nella modalità con cui si affrontano le partite credo nelle caratteristiche che servono per poter primeggiare sull'avversario che vuole rubarti la merenda e quindi sicuramente cavalcheremo questa linea poi ovviamente ci sono strategie di partita in partita in base anche a quello che gli avversari vogliono provare a fare affrontavamo avversari che volevano avere il possesso palla e abbiamo cercato di metterli in difficoltà togliendogli qualche certezza spesso ci siamo riusciti, a volte no però in una gara ovviamente non sempre puoi fare quello che vuoi e quando non ti permettono di farlo devi essere bravo anche a sapere resistere Giuliani dell'Universo, qual è secondo lei la caratteristica del Vicenza alla quale i suoi devono prestare maggiore attenzione? È una squadra comunque esperta è una squadra che si è rinforzata è una squadra che ha dei valori e sicuramente è una partita molto molto complicata ma lo sono tutte noi conosciamo quelli che sono i loro pregi e sappiamo anche quelli che sono i loro difetti ma dobbiamo cavalcare quelle che sono le nostre qualità perché abbiamo tutte le possibilità per fare una grandissima partita e dobbiamo prepararci per farla Di Ruzzade il tifoso il match contro il Parma ha dato buone sensazioni ed è un buon risultato a Vicenza darebbe continuità contro i Biancorossi pensa di confermare il centrocampo o magari cambiare qualcosa per contenere meglio le ripartenze? L'ho detto all'inizio abbiamo cercato di dare una certa continuità ancora mancano due giorni alla gara non so di preciso chi andrà in campo però sicuramente non ci saranno grandissimi stravolgimenti i ragazzi hanno fatto una grande partita sono stato contento anche dei cinque giocatori che sono entrati perché comunque ci hanno dato tanto e questa è una cosa importante per me molto importante perché soprattutto adesso che ci sono cinque cambi iniziare la partita in un modo e farla bene è importante ma diventa determinante come poi la prosegui con i giocatori che subentrano e noi in questo siamo stati molto bravi e mi auguro che continueremo ad esserlo Martini tutto frosinone mister come sta Brighenti? al suo posto eventualmente giocherà a Cotali oppure anche Klitten è già pronto per eventuale maglia da titolare? Nicolò purtroppo non si è allenato così come non si è allenato Mirko si sono allenati a parte oggi vedremo se riusciremo ad averlo a disposizione non so se sarà possibile utilizzarlo da subito se non sarà possibile utilizzarlo da subito credo che in questo momento Matteo sia il più adatto a sostituirlo Viaggi messaggero qual è l'effettiva situazione di Novakovic? quando pensa possa rientrare in partita? Andrea ha iniziato con noi ha fatto l'inizio della preparazione con noi poi ci sono state alcune problematiche ha dovuto fare dei controlli supplementari e da qualche giorno è rientrato con noi è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti è un ragazzo che ha qualità che a me piace tanto sia nelle qualità tecniche ma anche in quelle morali perché comunque è un ragazzo generoso e che sicuramente sarà importante per il proseguo di questo campionato ora tra l'altro ieri, ieri, oggi e domani stiamo valutando di comunque inserirlo come abbiamo fatto e può darsi anche che alla fine lo porterò a Vicenza perché comunque ha delle caratteristiche che potrebbero esserci utili anche per qualche minuto nei minuti conclusivi della gara Vizca Frosione Today l'arrivo di Manzari aggiunge un ulteriore elemento in un reparto che presentava già diversi calciatori da allenatore quali sono i pregi e i difetti nell'avere così tante soluzioni offensive? quando hai tante soluzioni comunque sono più pregi che difetti poi l'unico difetto che potrebbe essere che chi in determinati momenti si sente meno impiegato lasci un po' il piede all'acceleratore ma questo cerco di ripeterlo tutti i giorni ai ragazzi che io credo nelle qualità di tutti e sono convinto che ci sarà bisogno delle qualità di tutti quindi avere tante soluzioni sicuramente deve essere un vantaggio Papitto, gente comune mister, a che punta dell'apprendimento tattico di Klitten e Koblar possono iniziare ad essere già delle alternative concrete per la difesa? beh, ho risposto prima comunque non è facile per dei ragazzi giovani che arrivano da altri paesi in questo momento sicuramente come dimostrano anche le mie scelte devono fare dei passi avanti ma sono convinto che li faranno e che saranno utili anche loro alla causa Campioni alle Frosinone mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato si aspetta altri colpi per completare la rossa oppure ritiene che così sia da posto? ah, quello vi dico sempre ci pensa il direttore io sono focalizzato sui ragazzi che ho e proveremo ad andare a Vicenza con tutti i ragazzi focalizzati e cercare di ottenere un risultato positivo perché è quella la cosa più importante in questo momento l'ultima Andrelli TG24 il mercato in questi ultimi giorni e la presenza di tanti club ambiziosi sta delineando uno dei campionati più equilibrati e ricchi di qualità degli ultimi anni di Serie B è d'accordo? sì, sono d'accordissimo è un campionato molto molto difficile la prima giornata già ce l'ha dimostrato e sono convinto che anche le altre lo dimostreranno e proprio per questo ci sta da lavorare sodo ci sta da mettere dentro tante energie ci sta da crescere in fretta ma noi sono tutte caratteristiche che abbiamo voglia di cavalcare perché vogliamo ben figurare in un campionato difficilissimo come ha detto il Presidente all'inizio abbiamo i nostri obiettivi e proveremo a raggiungerli nell'arco dell'annata grazie a tutti